Siamo per l'ennesima volta di fronte a una grande azienda che ha sede anche in Toscana che va a ridurre il personale a effettuare i dettagli proprio nel settore della ricerca e dello sviluppo. In questo caso si tratta della svedese Ericsson che ha una sede a Pisa, al CNR in San Cataldo e a Genova. Per questo stiamo facendo un'azione in congiunta insieme con i regionali Liguri e con il nazionale affinché si attivi innanzitutto un tavolo di crisi con la regione toscana che è quello che chiediamo con la nostra mozione che andremo a presentare a questo Consiglio e soprattutto si dia conto della cosa inaccettabile che nel 2014 è stato fatto un protocollo con la regione toscana per il quale la regione stessa ha dato all'azienda 7 milioni di euro per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e adesso si trova a distanza solo di due anni di fare dei tagli proprio in quel settore. Noi chiediamo spiegazione di questo e soprattutto chiediamo che vengano scongiurate riduzioni occupazionali sul territorio pisano.